credo che sia doveroso fare un appello a tutti i nostri concittadini in relazione al problema del coronavirus credo che sia arrivato il momento di dire con grande chiarezza che siamo di fronte ad un problema serio ho la sensazione che non tutti abbiano capito questa verità elementare siamo di fronte ad un problema serio che richiede comportamenti responsabili da parte di tutti e che richiede un cambiamento radicale delle abitudini di vita dobbiamo evitare al massimo contatti sociali a rimanere di più a casa quando si va a fare la spesa bisogna andare una persona per famiglia in un supermercato in un centro commerciale molti nostri concittadini non hanno capito che bisogna evitare assolutamente luoghi nei quali ci sono assembramenti ho fatto un'ordinanza di chiusura delle discoteche ma poi apprendo che di sera i bar i pub nei centri storici accolgono decine centinaia di ragazzi senza rispettare come evidente la distanza di un metro fra un ragazzo e l'altro queste situazioni non sono tollerabili non so come spiegarlo abbiamo singoli cittadini che hanno comportamenti assolutamente disinvolti abbiamo trovato un nostro concittadino che attualmente è ricoverato al cotugno che il giorno 21 è andato al teatro posillico a napoli ad una festa con 200 persone il 22 è andato in un ristorante di via cilea il 26 in una pizzeria il 29 ha cominciato a stare male oggi è intubato al cotugno ma c'è bisogno di ripetere ancora che bisogna limitare le partecipazioni a queste feste bisogna eliminare queste feste allora mi permetto di fare un appello davvero convinto ai nostri concittadini perché capiscano che la situazione è seria noi abbiamo oggi il dovere di evitare la diffusione del contagio ma questo obiettivo raggiungiamo se siamo tutti responsabili altrimenti la situazione diventa davvero pesante vi invito ad avere comportamenti responsabili a darci una mano per affrontare con ragionevolezza e serenità un problema che è grave ma senza l'aiuto di ogni cittadino diventerà difficile contrastare la diffusione del contagio